Presentati i dati dello sportello unico attività produttive SWAP dei 41 comuni del comprensorio pescarese. Soddisfatti il presidente della Camera di Commercio di Pescara Becci e il direttore generale di Confindustria Pescara Luigi Di Giosaffatte della relazione del comune capofila del progetto, il sindaco di Pianella Giorgio D'Ambrosio. Il risultato non può che essere positivo. Noi abbiamo preso come comune di Pianella capofila nel 2006, i sindaci ci hanno dato fiducia, li abbiamo ricambiati con un'attività incessante che ha portato a potenziare questo importante strumento sia in termini di quantità delle pratiche analizzate, nell'anno in corso del 2012 abbiamo sovrato le mille, ma soprattutto in termini di celerità e anche perché abbiamo ulteriormente dei progetti in cantieri che potranno arrivare a una gestione totalmente online. Semplificata la vita degli imprenditori, quali le criticità sulle quali ancora lavorare? L'imprenditore abbiamo avuto un forte miglioramento della tempistica, una semplificazione, c'è ancora qualcosa da fare, soprattutto un maggiore raccordo con gli enti e pensiamo che con la gestione informatizzata e così online possa arrivarci ulteriormente alla velocizzazione dei pareri. Con l'Aus di Pescara abbiamo portato avanti un'opera di confronto per far sì che un loro rappresentante settimanalmente si possa legare presso i nostri uffici in modo da dare i prescretti pareri e velocizzare ulteriormente. Certo, c'è l'aspetto anche da parte dei comuni che per quanto riguarda le varianti urbanistiche e che noi possiamo anche dare le autorizzazioni in derico al piano ruratore, non sempre sia velocissima, lì è una problematica ancora più complessa che però contiamo di poter ulteriormente affinare. A quando l'amplimento a comuni come Pescara, Montesilvano e Bussi? Noi ci auguriamo presto. Montesilvano in passato era il nostro socio, poi ha scelto di andare da soli. Io col sindaco sto cercando un approccio per far sì che si possa tornare a gestione insieme. Bussi penso che lo deciderà a breve. Il cittadino ha fatto a suo tempo già questa scelta, ma ripeto, io penso che sia nell'interesse di tutti perché noi abbiamo molto abbassati i costi. È un servizio che è giusto farlo insieme perché penso che sia anche importante che la stessa tipologia di iniziativa abbia la stessa risposta uguale in tutti i comuni della provincia di Pescara e ci auguriamo in futuro anche in tutti i comuni della regione Abruzzo.